Io legge, tu legge e gli leggia. Sì, ma cosa? Non è che si può sempre leggere solo libri di investimenti o di finanza. La cultura generale o lo svago dei romanzi può aprire secondo me la mente su molte tematiche che non è detto che siano direttamente collegate agli investimenti, ma che magari possono tornare utili anche in questo ambito. Oggi voglio darti tre titoli di libri che mi è piaciuto leggere e che penso possano portarti a crescere in maniera personale, di apertura mentale ed in cultura o perlomeno che una volta completati possano farti sentire una persona diversa, magari migliore, però te ne parlo subito dopo. La sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi video completamente diverso, molto corto, quasi colloquiale, un po' di me stesso attraverso i libri che leggo. A proposito, mi è venuta una cosa in mente. Volevo capire se potesse interessarvi un video solo su di me, in maniera personale, cioè chi sono, da dove vengo, cosa studiato, che lavori ho fatto, farvi un po' i c***i miei in pratica. Se la cosa può essere di vostro interesse, per favore, fatemelo sapere qui sotto, nei commenti, che magari mi metto giù, butto qualcosa e preparo un video a tal proposito. Torniamo a parlare però di libri. Ti voglio dare questi tre titoli, dirti in linea di massima di cosa parlano e magari sollezzare la tua curiosità, senza andare troppo a fondo su quello che trattano o comunque che non sia una recensione, sia per non essere troppo prolisso, ma anche perché sono solito andare a fare recensioni ed analizzare a fondo i libri che leggo e se devo fare una cosa per tre libri in un unico video, sarebbe un po' come andare a guardare The Game of Thrones, una serie della HBO. Cominciamo dal primo libro che tra l'altro è l'unico dei tre che io abbia recensito già qui sul canale, Le dieci mappe che spiegano il mondo, che è un saggio del giornalista britannico Tim Marshall, pubblicato originariamente nel 2015 con il titolo che richiama un po' questo titolo italiano, ma che non è proprio così, infatti il titolo originale è Prisoners of Geography, 10 maps that tell you everything you need to know about global politics. Il libro scritto da un giornalista britannico che è esperto appunto in geopolitica e che tenta di interpretare in dieci mappe, ovvero macro aree e per cui altrettanti capitoli, le logiche che sono sottese di sviluppo economico e di equilibrio tra vicini di ciascuna delle aree del mondo, passando dalla mai che più attuale Russia, poi Cina, Stati Uniti, Europa, Africa, Medio Oriente, India, Pakistan, Corea, Giappone, Sud America e infine l'Artile. L'autore intende l'ussare al grande pubblico con un linguaggio che è molto accessibile, la forte correlazione degli equilibri strategici dei paesi con la rispettiva area geopolitica. Dice l'autore, non c'è storia senza geografia, per comprendere quel che accade nel mondo abbiamo sempre studiato la politica, l'economia e i trattati internazionali, ma senza geografia, suggerisce Tim Marshall, non avremo mai il quadro complessivo degli eventi ogni volta che i leader del mondo vanno a prendere decisioni di tipo operativo. Infatti devono fare dei conti con la presenza di alcune cose come mari, fiumi, catene montuose o deserti. Perché il potere della Cina continua a aumentare? O perché l'Europa non sarà mai completamente veramente unita? Perché Putin è stato così tanto ossessionato dalla Crimea che se l'è annessa? Oppure perché gli Stati Uniti erano comunque destinati a diventare una superpotenza mondiale? Le risposte a queste domande e a molte altre risiedono nelle 10 fondamentali mappe scelte per questo libro che appunto descrivono il mondo dalla Russia all'America Latina, dal Miglioriente all'Africa, dall'Europa alla Corea. Lo stile della scrittura è molto chiaro, è una prosa appassionante e Marshall racconta in che modo le caratteristiche geografiche di un paese hanno condizionato la propria forza o anche la propria debolezza nel corso della storia, per cui dei secoli, e così facendo prova a immaginare il futuro delle zone più calde dal punto di vista geopolitico del pianeta. Il secondo libro è di un fisico italiano, Carlo Roverli, e si intitola Le sette brevi lezioni di fisica, qui lo vedete in inglese perché l'ho comprato quando vivevo in Irlanda. Le sette lezioni raccontano alcune tappe inevitabili della rivoluzione che ha scosso la fisica nel secolo XX e la scuote tuttora con occasionali spunti autobiografici e sono indicativamente e rispettivamente dedicate a queste lezioni. La teoria della relatività, la teoria di quanti, la struttura del cosmo, le particelle, l'origine del cosmo, i buchi neri, la natura del calore e il ruolo dell'uomo. Un libro che è stato un best seller inaspettato, con grande sorpresa anche di Roverli, ma soprattutto della propria casa editrice, la Delphi. La prima tiratura contava solo 3.000 copie senza promozione e alla fine del dicembre 2015 ne aveva venduto 300.000 in Italia, con però 19 edizioni e l'ultituto è andato a stampare in numerosi paesi stranieri. Carlo Roverli attualmente è un ordinario di fisica teorica all'Università di A.E. Marseille e dirigente del gruppo di ricerca di gravità quantistica del Centre du Physique Théorique d'Illumini a Marsiglia. È anche uno dei fondatori della Loop Quantum Gravity, la gravità quantistica al loop. Questo libro raccoglie le espansioni di una serie di articoli pubblicati come supplemento proprio per il Sole 24 Ore, che tra l'altro è un quotidiano finanziario. Offre una caratterata su alcuni aspetti più rilevanti e affascinanti della grande rivoluzione che è avvenuta nella fisica del XX secolo e devono la propria semplicità al fatto che sono stati pensati per chi come me la scienza moderna non la conosce o la conosce veramente poco. Dice Roverli, ci sono frontiere dove stiamo imparando e brucia il nostro deciserio di sapere. Sono delle profondità più minute del tessuto dello spazio, delle origini del cosmo, della natura del tempo, nel fato dei buchi neri e nel funzionamento del nostro stesso pensiero. Proprio qui sul bordo di quello che sappiamo a contatto con l'oceano di quanto non sappiamo, brillano il mistero del mondo, la bellezza del mondo e ci lasciano senza fiato. Tale è il presupposto di queste brevi lezioni che ci guidano con ammirevole trasparenza attraverso alcune tappe che sono state inevitabili nella rivoluzione che ha scosso la fisica appunto del XX secolo e le scuote tuttora a partire dalla più famosissima teoria della relatività generale di Einstein a quella della meccanica quantistica fino a questioni aperte sulla architettura del cosmo, sulle particelle elementari, sulla gravità quantistica, sulla natura del tempo e sulla nostra mente. Ultimo libro, uno che ho comprato quando aprì il primo canale YouTube, quello di nutrizione, ma che credo possa essere utile a tutti per capire come comunicare meglio con gli altri e come si riceve la comunicazione. Si intitola Come si comunica la scienza. È il titolo che Yuri Castelfranchi e Nico Pitrelli hanno scelto per questo volume. Sembrerebbe dal titolo un manuale per conoscere i trucchi del mestiere del comunicatore scientifico, infatti io lo comprai per questo motivo, ma invece è molto di più. I due autori presentano un quadro lucido e chiaro di come la comunicazione ricopra inevitabilmente un ruolo essenziale per la scienza e la società attraverso una serie di dinamiche che sono estremamente complesse. Per farlo viene presentata l'evoluzione di queste dinamiche nel corso della storia, per esempio dalle prime conferenze pubbliche alle Camere delle Meraviglie del Cinquecento, oppure dai primi volumi divulgativi scritti da scienziati come Galileo Galilei, alla nascita delle accademie nazionali del Seicento, dalle encircopedie de Denis Dierot o Jean-Baptiste Leront d'Alembert ai primi quotidiani del secolo dei Lumi. E viene mostrato come la comunicazione abbia sempre accompagnato e influenzato il modo di fare la scienza. La scienza è naturale portatrice di innovazioni, non incide sul mondo solo quando è fonte di nuova tecnologia, ma fornisce un sistema di simboli, concetti, valori che aiutano a dare un senso alla realtà, a cercare risposte alle nostre domande e a inventarne delle nuove. Pubblicità, cinema, televisione, giornali e telegiornali usano la scienza come contenuto e forma di discussione, e in queste pagine i due autori raccontano la varietà e la complessità raggiunte oggi dalla comunicazione scientifica e che cosa questo abbia a che fare col governo delle democrazie contemporanee e con la vita quotidiana dei cittadini. Come si comunica la scienza? Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Per favore dammi le tue impressioni su questi libri, se li hai già letti o se avrai modo di leggerli dopo questo video. La lettura è fonte di conoscenza e di crescita personale. Ci aiuta a fare tacere la nostra saccenza ponendoci di fronte al fatto che non sapremo mai tutto e che ci sarà sempre gente da cui potremmo e dovremmo imparare. Dammi un tuo cenno nei commenti qui sotto aiutami a crescere ancora di più come faccio con i libri o come cerco di fare con i libri con tanti suggerimenti su altre letture che magari non ho presentato quest'oggi. Trovi link per tutti e tre libri nella descrizione del sotto del video. Sono link affiliati Amazon. Se li compi io guadagno qualcosina e mi aiuti a sostenere il canale. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo sul canale di cliccare la campanella delle notifiche dopo esserti iscritto così tu non possa perderti nessun contenuto successivo. Anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!